Io mi chiamo Eleazzaro che è questo lampante gesto di odio da parte dei miei genitori che evidentemente non avevano previsto che sarei arrivato non lo so alla prima elementare probabilmente. Eleazzaro devi essere esattamente. Eleazzaro che per farvi rendere conto della rottura di coglioni che è questo nome tu come ti chiami? Simone? Muori Simone adesso. Simone quando tu ti presenti funziona così aspetta che te lo dico funziona così. Ciao come ti chiami? Simone fine della cazzo di storia no? fine della cazzo di storia per me non è mai così non è mai stato così in 40 anni non è mai stato così per me è sempre così come ti chiami? Eleazzaro con questa faccia qua come se gli essi detto ho appena finito di inculare tua nonna e ammanettata al termosifone nell'altra stanza poi e poi segue questa miserabile conversazione ogni volta. Eleargano? No. No. Eleazzaro? Ezechiele? No. No. Eleazzaro? Ibuprofene? Ibuprofene vaffanculo andata! Ibuprofene! Eleazzaro nome ebraico ok? Nonostante io non sia ebreo la mia famiglia non è di origine ebraica non so perché ci tengo a specificarlo con questa veemenza non c'è niente di male nell'essere ebrei ok? Non c'è niente di male nell'essere ebrei Comunque non sono ebreo Eleazzaro nome ebraico che in aramaico antico l'antica lingua degli israeliti significa Dio ha aiutato Grazie vecchio! La prossima volta non ti disturbare siamo a posto così non ti... E ho vissuto i primi cinque sei anni della mia vita noi vivevamo in campagna fuori dalla città e i miei genitori non mi hanno mai mandato all'asilo perché loro avevano tutte queste idee... come si dice... del cazzo avevano tutte queste idee del cazzo e quindi io sono cresciuto con pochissime iterazioni con bambini della mia età e sono cresciuto con la convinzione granitica proprio che Eleazzaro fosse un nome normale, comune, diffuso e giusto Ok? Opinione che si è infranta contro la realtà il primo giorno di Primo Elementare Quando è arrivato il pulmino che mi avrebbe portato a scuola, io sono salito tutto carico, molto felice, molto felice perché pensavo finalmente faccio amicizia con qualcuno Salgo sul pulmino, si avvicina un ragazzo di quarta che si chiamava Alberto Casali ed è morto di eroina a 18 anni e sono contento di questa cosa, se lo meritava completamente Si avvicina... si avvicina questo bambino di quarta e mi dice come ti chiami? E io gli dico Eleazzaro e lui mi dice Eleazzaro E qualcosa si rompe dentro di me perché era la prima volta che sentivo storpiare il mio nome, però era un accento, era un errore piccolo, poteva andare molto peggio E infatti è andata molto peggio subito dopo perché ha detto Eleazzaro, melanzana Melanzana Che non si assomiglia per un cazzo Se non fosse che un pochino si assomiglia, vaffanculo E questa è la storia di com'è Sono stato melanzana rossi per cinque anni di elementari Che se fossi stato un po' più fragile mi sarei ammazzato a 12 anni E invece faccio il pagnaccio, va tutto alla grandissima È un pochino